Noi siamo qua al skyline di Pilipina di Cervantes. Comunque questo qua, questo è un paesino meraviglioso che sta nella montagna, la montagna che si vede tutti i paesi nel luxorio. Comunque faccio vedere come la paese che stanno qua giù sotto. Ecco qua, la paese, paese, che meravigliosa. Comunque faccio vedere come la paese. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.